Leonardo Silva Revisore Vi ricordate 30 anni fa i film di fantascienza? Io non ero ancora nata. Eppure si immaginavano mondi popolati da autovolanti e robot. Ad oggi non abbiamo ancora progettato le autovolanti. Eppure abbiamo inventato qualcosa di ancora più fenomenale. I droni. Se ci pensate bene, un drone non è nient'altro che un robovolante. Semplici, piccoli e leggeri, decisamente meno costosi di qualsiasi prototipo di robot. Maneggevoli grazie a quattro semplici eliche che permettono di spostarsi in diverse direzioni. In alto, in basso, a destra, a sinistra. Ma soprattutto sicuri, perché utilizzano sensori di anticollisione e radar per evitare qualsiasi tipo di ostacolo. La configurazione dei droni li rende una tecnologia estremamente duttile e versatile. Ed è proprio per questo motivo che un anno fa ho deciso di impiegarli all'interno della mia azienda. Per voi i droni potranno essere nient'altro che un mero strumento. Ma per me hanno rappresentato un vero e proprio risveglio. Ed è grazie alle potenzialità dei droni che intendo, insieme ai miei soci, plasmare un futuro nuovo, innovativo e prosperoso. dove la tradizione e la tecnologia, la governance e le imprese possano lavorare assieme per risvegliare la coscienza collettiva e assicurare un futuro migliore ai nostri figli. Ora vi starete chiedendo, innanzitutto, chi è che non vorrebbe assicurare un futuro migliore ai propri figli? E inoltre, che cosa diamine centrano i droni con tutto questo? Bene, se la risposta alla prima domanda è scontata, quella della seconda è decisamente più complessa. Ed è per questo motivo che sono qua oggi. Per mostrarvi che i droni non sono relegati al nostro immaginario. Ma sono una realtà concreta. Sono già impiegati in diversi settori e lo saranno sempre di più. Gli usi sono innumerevoli, dai più banali ai più complessi. Ora, nell'immaginario comune, il drone è uno strumento di guerra, utilizzato per operazioni di ricoglizione e sorveglianza. Tuttavia, questo non vuol dire che possa essere utilizzato per cause ben più nobili. Dalla banale ricerca e soccorso di dispersi, in caso di disastri naturali come slavine e terremoti, al trasporto di organi di trapianto in località remote e difficilmente accessibili. Voglio darvi un esempio concreto delle potenzialità che queste piccole macchine volanti hanno. Partiamo dall'inizio, dal problema. Le api. Esse sono responsabili per il 75% dell'impollinazione delle culture del mondo. Parliamo di mele, ciliegie, broccoli, mirtilli. Ora, a causa del cambiamento climatico e del crescente uso di pesticidi, la popolazione delle api sta diminuendo drasticamente e ad essere colpiti non saranno solo gli alimenti che vi ho appena citato, ma anche gli erbivori che producono latticini e carne, la canola che è utilizzata come biocarburante in molti paesi in via di sviluppo e addirittura il cotone di cui si sono fatti i vostri vestiti. Come potete ben vedere, questi dati sono estremamente allarmanti e nonostante la cattiva notizia che non ci siano previsioni di invertire questo trend, alcuni scienziati hanno inventato un mini drone capace di impollinare i fiori e così supplire al declino delle api utilizzando delle semplici crini di cavallo che vanno a riprodurre il pelo delle api e un gel che cattura il polline questi mini droni possono garantire la sicurezza alimentare in un futuro così incerto. Però ovviamente questo non è un buon motivo per far morire le api. Ora, questo è solo uno degli innumerevoli esempi delle potenzialità dei droni. Presto entreranno a far parte delle vostre vite a 360 gradi, a partire dalla frutta e dalla verdura che mettete in tavola. I droni possono essere impiegati per controllare la maturazione dei frutti, per spargere i pesticidi in modo localizzato, addirittura per diffondere la semente, senza dimenticare che diventeranno le nuove auto del futuro e rivoluzieranno completamente le facce della nostra città. Soprattutto per quanto riguarda il trasporto di pacchi via aerea anziché su ruote. Il vostro postino di fiducia sarà un drone. Li vedrete al mare quando sarete in vacanza, perché i guardi a spiaggia li utilizzeranno per controllare i bagnanti e per trasportare salvagenti in caso di emergenza. O semplicemente li utilizzeranno per l'intrattenimento. Questi sono 2018 droni utilizzati da Intel per comporre uno spettacolo di luci. Molti obiettori insistono sul rischio che queste nuove tecnologie comportano per quanto riguarda rispetto della privacy. Eppure ciò non è dovuto ai droni. La perdita della privacy va imputata alla curiosità e alla voglia che abbiamo di condividere ciò che ci piace, ciò che non ci piace, dove abitiamo, le nostre abitudini, con gli altri. Semplicemente non c'è bisogno di un drone o di una telecamera per spiare cosa fate la sera nelle vostre case o cosa avete mangiato a pranzo. Perché probabilmente l'avrete già condiviso sui social network. Il vero problema è legato alla mancanza di norme e regole. Non importa quanto avanzata sia la tecnologia dei vostri droni, questi non andranno mai a sostituire l'uomo. Sì, sono delle macchine che servono a renderci la vita più facile, ma sono pur sempre delle macchine controllate dall'uomo. Ora, la questione non riguarda solo i droni, ma le nuove tecnologie in generale. C'è bisogno che le istituzioni ne regolamentino l'utilizzo al più presto e che lavorano assieme alle imprese e agli enti locali, al fine di delineare un piano d'azione conciso, ma completo, che possa superare gli ostacoli di una burocrazia spesso oberante e responsabile del soffocamento di innumerevoli iniziative. E non solo queste iniziative non sono promosse dai governi, ma sono spesso ostacolate dalla lentezza dell'apparato burocratico. Un esempio eclatante si tratta della corporate social responsibility, o la cosiddetta responsabilità sociale di impresa, e la voglia delle grandi e piccole e medie imprese di avere un impatto sociale positivo sulla comunità circostante. Si tratta di utilizzare una piccola parte dei propri profitti al fine di contribuire a preservare il nostro pianeta, senza il quale non potremmo sopravvivere. In giro per il mondo ci sono innumerevoli esempi di aziende che utilizzano propri droni per combattere le grandi sfide di questo secolo, ad esempio il cambiamento climatico. In California si utilizzano fotocamere termiche montate sui droni, così da contenere gli incendi che ogni estate bruciano sempre più etteri. In Kenya e in Tanzania i droni vengono impiegati per salvaguardare la flora e la fauna e prevenire attività di bracconaggio. Mentre in Myanmar sono utilizzate per diffondere la semente, per riforestare le zone costiere abitate da mangrovie. Ed è proprio di Corporate Social Responsibility che mi occupo all'interno dell'azienda che ho fondato un anno fa, ad appena 18 anni, in Silicon Valley, con mio fratello, che diciamo mi ha cresciuto a pane ai droni. Utilizziamo un network di piloti di droni per fornire servizi di sicurezza. Ma la parte più interessante è l'idea di un modello di sviluppo che unisca assieme il business e la responsabilità civile. Così, in caso di emergenza, possiamo offrire il nostro aiuto alla comunità che ci ha colti e senza la quale non potremmo esistere. Eppure, purtroppo, la lentezza dell'apparato burocratico e la mancanza di norme ci rallenta e spesso ci impedisce di intervenire in modo tempestivo. Ed è proprio per questo motivo che le istituzioni devono guidare il processo di rinnovamento tecnologico. Con appena 19 anni sulle spalle, sono forse ancora troppo idealista e ottimista all'idea di poter cambiare e contribuire al cambiamento necessario per garantire un futuro ai miei figli. Ho tutta la vita davanti, eppure sento l'impellenza di agire, di tentare perché ho la speranza che la mia generazione possa e debba invertire il trend negativo che ormai stiamo seguendo da troppo tempo. È arrivato il momento del risveglio e non stiamo parlando di un risveglio tecnologico o economico. Parliamo di un risveglio della coscienza collettiva e della classe dirigente from the bottom to the top al fine di lavorare assieme per dare inizio a un nuovo rinascimento, alla scoperta e alla salvaguardia della bellezza del nostro pianeta. Grazie. 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 Grazie.